Ben ritrovati da Piazza Affari con l'evento di Benpe Paribas sui certificati, portafogli evoluti. Siamo in compagnia di Andrea De Gaetano, analista finanziario. Benvenuto. Grazie mille dell'invito. La domanda che volevo farle è appunto quali sono le caratteristiche interessanti dei certificati e quali strategie di investimento permettono di implementare? I certificati di investimento sono una soluzione di investimento a mio avviso molto interessante in questa fase che permettono di andare a comprare sostanzialmente con lo sconto dei sottostanti. Questi sottostanti possono essere singoli titoli, possono essere indici e in una fase di mercato in cui gli indici azionari e molti titoli sono già sui massimi storici e continuano a salire andare a comprare il singolo titolo può essere rischioso e viceversa andare a comprare un certificato con una strike, una barriera e quindi un livello predefinito più basso del livello corrente di fatto consente di ottenere un'esposizione a questo sottostante riducendo un po' i rischi rispetto a quello che è il sottostante stesso. Quindi se si compra un titolo azionario si è esposto in maniera proporzionale ai rialzi e ai ribassi se si compra un certificato si ha la possibilità di beneficiare di più movimenti del mercato sia un mercato a rialzo sia un mercato laterale ma anche un mercato moderatamente a ribasso quindi in tutti questi casi si può ottenere una cedola quindi un flusso cedolare che magari potrebbe essere inferiore a quello che offre il dividendo azionario o un titolo azionario che sale molto però in caso di mercati in discesa offre maggiore protezione. Perfetto, molto chiaro, grazie per essere stato con noi. Grazie mille a voi per l'invito.